va bene amici del grande calcio bentornati su senza girava fa questa vittoria non so perché ma mi ha dato una non lo so non mi senta cioè mi devo accendere una sigaretta e non fumo penso veramente hanno dato tutto e torna a casa senza niente come la maggior parte delle squadre che giocano con il napoli questa no ma comunque aspetta ragione prima di tutto facciamo i complimenti alla ruma che secondo me ma anche perché a memoria è la squadra che si è comportata meglio quando è venuta ad affrontarci al maradona c'è comunque soprattutto nel secondo tempo ha pure cioè c'è pure palleggiato in faccia non è riuscito a creare chissà che però comunque rispetto alle squadre a tutte le altre big che sono venute ad affrontarci al maradona è quella che secondo me se ne è uscita meglio da questa partita e quindi leviamo da mezzo questa cosa quindi devo fare un momento allegriato prima di tutto complimenti ai ragazzi esatto e l'abbiamo fatto però il resto dei complimenti va fatto assolutamente a tutto il gruppo e soprattutto guarda ti dico sta cosa durante durante il secondo tempo quando poi spalletti ha fatto il cambio in famiglia sai hanno storto il naso perché hai tolto la simene messa a simeone io l'ho detto non lo sappiamo per quale motivo o simene è stato sostituito però non significa che simeone non entrerà e non deciderà il risultato allora per 10 minuti ha segnato simeone wow proprio ho bagnato tutto il televisore però è una mancanza di fiducia particolare nei confronti di simeone e più volte ha risolto le partite proprio entrando così a brucia però però sono sicuro la maggior parte delle persone hanno pensato anno ha tolto simene mo che siamo una u e invece l'allenatore che ne sa si fida di tutti gli giocatori della propria squadra o simene lo sanno sono erano i due giocatori che fin quel momento avevano distrutto la difesa avversaria erano i due più pericolosi li ha tolti e ha messo raspadore e simeone e ha vinto la partita lo stesso cioè questi quando ti sarebbero entrati comunque se non avessi pareggiato la roma ma sì perché era già pronto il cambio a quanto ho capito perché troppo cioè non mi è sembrato un cambio di reazione ad una cosa successa nel durante il match c'era un cambio già prestabilito e quindi appena guarda casa appena segnato poi sono entrati questi due cioè non credo comunque me l'abbiamo detto più volte non che lo dovessimo dire noi però la grande forza del napoli di quest'anno è questa rosa perché già noi siamo forti nei titolari che sceglie spalletti spalletti guardi questo video si sono titolari che giocano sempre gli stessi però voglio dire sì quando poi quei titolari non funzionano ma non perché giochino male perché non riescono a portare risultati a casa perché partite sono difficili cioè siamo tutti giocatori di serie a poi entrano questi giocatori dalla panchina che sono più forti anche alcune volte di titolari quindi fanno una differenza in campo cioè oggettivamente fate 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 stato particolare vedere che da una parte usciva Ibramo entrava Belotti usciva Pellegrini entrava Bove usciva Matici entrava Tairovic e da noi entravano Raspadori Simeone Don Belè Oliveira e Delmas e adesso una piccola un piccolo vanto ce lo prendiamo per chi non ha seguito il video che non ha visto il video pre partita di Napoli Roma noi l'avevamo anticipato che questa partita l'avremmo vinta con i cambi dalla panchina e facciamoci pure l'applauso hai che Olivera che è entrato su quella fascia a parte che ha corso come non lo so un'ira divina poi una potenza e una voglia di rompere le uova nel paniere ai romani quando sono andato a fare quella azione Raspadori Olivera è anche stata vicino al calcio d'angolo che c'è stata quella rissa che non si è capito più niente ci sono state 8 intercettazioni 17 contrasti dribbling a caso rimpalli bellissimo quel momento della gara e lì noi ci saremmo potuti rifugiare anche in sai vicino alla bandierina invece proprio abbiamo scelto di ingaggiare il duello fisico con tutti i giocatori della Roma sulla fascia mi è piaciuto vabbè poi dopo poi non andiamo non entriamo nello specific che poi faremo anche il video con le pagelle però io l'accendo al gol di Victor si deve fare un gol che è da cineteca proprio da incorniciare lo metti lì come sfondo del computer sul desktop è che quello è spettacolare e Simeone comunque non è che ha fatto un gol brutto anzi di sinistro che non è neanche il suo piede la mette là nel sé cioè è spettacolare e vabbè per tutti quelli che staranno pensando qua tolto a quara al sessantesimo io voglio sempre ricordare che è da inizio stagione che tolto a quara al sessantesimo vogliamo svegliarci da questa cosa e da inizio stagione fa due tre quattro cinque sei gol oppure gioca male sembra al sessantesimo esce a quara tutte le partite il quara è quello che gioca sempre su quella fascia a meno che non ha problemi fisici quindi lì sapendo che lo deve mettere sempre poi lo fa riposare è sempre stato così ma poi vogliamo parlare della soddisfazione di Victor quando abbiamo vinto la partita che aveva il giubbino un po' soletto ma comunque Victor è proprio ti gasa Victor stava continuando a giocare quando è uscito ti gasa pure mentre stai in banchese in tribuna tu senti Victor che ti gasa è bellissimo spettacolo è stato come Ronaldo alla finale dell'europeo bello 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 devo dire la verità questa è stata una vittoria più entusiasmante rispetto alle altre non tanto perché si ha vinto con difficoltà rispetto alle altre in cui magari facevi cinque sei gol perché c'è gusto pure in quelle vittorie ma proprio perché era una partita in cui non vi offendete ragazzi però l'avversario era all'altezza abbiamo battuto perché siamo più forti proprio nel competere quest'anno ci sono state poche partite e in quel Napoli è stato messo proprio in difficoltà ma per quello ho sentito di nuovo delle emozioni durante la partita nel finale ho risentito quell'ansietta che magari non riesce a vincere la gara cioè quegli ultimi dieci minuti sono stati proprio pieni di palpitazioni positivi eh perché io avevo imparato a odiarle queste situazioni cioè so che uno potrebbe dire beh è ovvio che un tifoso le odia in realtà no perché poi sono bei momenti da tifoso da vivere sono i momenti più appassionati delle partite però io da Napoletano l'avevo cominciato ad odiare perché erano i tipici momenti di quelle partite che noi avevamo buttato nel cesso con i vari Empoli, Sassuolo, Spezia e in cui poi non riuscivamo a cavare un ragno dal buco negli ultimi minuti invece questa partita la cosa più bella di questi momenti è che ogni giocata pure la più semplice ti dà una soddisfazione sempre a un certo punto Di Lorenzo fa quella finta di corpo senza toccare il pallone per fare andare il pallone in pallone laterale per guadagnare la rimessa ma io ho esultato come un gol cioè gli ho fatto l'applauso oppure tutte le volte i contrasti a Bruce Lee che ha fatto Kim in quegli ultimi minuti certo non ho voluto sapere più niente ogni pallone che arrivava nella sua zona proprio se l'era bucò ogni passaggio diventa un'esultanza da parte di quelli che stavano vicino alla fallo laterale certo ma veramente è bello sono quei momenti che non ti fanno sentire il freddo cominci ad avvertire solo calore bello 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 ancora una volta complimenti alla Roma una cosa la volevo dire non mi aspettavo una un'assenza di Di Bala cioè Di Bala io non l'ho sentito cioè l'ho sentito poco cioè non è che ha giocato male nel senso che non gli sono arrivati pochi palloni perché io veramente quasi non mi ricordo la parte di Di Bala o è stata una mia impressione no ma è semplicemente perdura la la maledizione del Maradona per Di Bala ma è vero che non ha mai segnato mai segnato mai segnato e mai fatto assist al Maradona ci sta buona fortuna a Tammi che speriamo che non si sia fatto niente sì vero e poi io concluderei dicendo date un Aulin a Smolin in Chibagnez e Mancini che Osimene praticamente le ha la via da pacca ma anche anche complimenti alla prima prestazione di livello stagionale da parte di Rui Patrisio che da quando ha lasciato lo sport in Crisbuna si è fatto due anni insufficienti al Wolverhampton e due agghiaccianti alla Roma stasera si è ricordato di essere portiere di Leone perché a me piaceva prima ha fatto quella parazzo che era nel primo tempo sul primo palo poi quella stessa parata sul Raspa la parata sullo Sano sotto la traversa eccezionale complimenti quella su Raspa era avvicinatissimo roba che è proprio tutto istinto con la parata è veramente Simeone che gliel'ha messa sotto la traversa e l'abbordata di Osimene sono riusciti a scalfurlo stasera vabbè più 13 aggiorniamo la cosa sì no non nuovamente prima stavamo a più 12 ma più 13 ah è vero è vero cioè abbiamo guadagnato un punto è frittrito è frittrito diceva Lautaro a bel momento abbiamo accorciato poi domani giocano loro non è vero mi piace non avete accorciato niente io starevo la sequela di scontri diretti al Maradona comincia bene con la vittoria con la Juve la vittoria ah scusami è vero non è uno scontro diretti effettivamente effettivamente vabbè comunque io se fossi l'Inter stare attento al al derby così concludiamo dai ragazzi questo video finisce qui godete insieme a noi e lasciate un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che escono su questo canale e forza Napoli sempre